A rafforzare il centrocampo con un giocatore che può essere utile, che può essere prezioso, che cosa possiamo aspettarci da lui Stefano? Le aspettative sui neo qui sono sempre molto alte, spesso anche troppo, con il rischio di bruciarli, prima ancora che possano mettere in mostra tutte le loro qualità. Il tecnico è insistente. Iguain, e c'è il gol, palla in rete! Primo tiro in porta, primo gol, davvero cinica quella squadra. Come vede la patta lui? Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0.